le quindici concorrenti ritornano agli ordini dello starter premio menta terza corsa al cirigliano prova sulla distanza del miglio dopo un primo tentativo non andato a buon fine stata la partenza richiamata per problemi al numero otto calendula parla ci riprovano in questa circostanza canossa cas facile al comando nei confronti del numero dieci candy regalabi velocissima dalla seconda fila con allargo camilla bass camilla bass va su canossa cas e passa a condurre dopo duecento metri in sedici interviene a largo corsa getta che va su camilla bass e la va ad impegnare primo quarto completato in trentuno e due camilla bass con ai lati corsa getta canossa cassi in seconda posizione a precedere candy regalabi e così dopo seicento metri in quarantasei e mezzo passaggio davanti alle tribune con sempre camilla bass leader già in difficoltà canossa casse per linee esterne corsara gaps giro di pista ultimato in uno uno e mezzo camilla corsa getta canossa casse che si riprende un pochino con ai lato con ai lati sempre corsara gaps uno diciassette e mezzo il chilometro camilla e corsa sempre alle prese corsa insista ai lati di camilla che si oppone ad oltranza nel frattempo si avvicinano le ritardatarie tra queste dovrebbe esserci anche conchiglia getta che poi si allarga e perde qualche battuta camilla ancora in vantaggio corsa e si ripropone ancora ai suoi fianchi e match fin dalle battute iniziali ritorna conchiglia a centropista battute conclusive camilla è ferma corsa ritorna ai suoi fianchi le due lottano accanitamente ma camilla sin sul traguardo mentre corsa è seconda e per il terzo il numero 11 di cecile quindi 3 6 11 abbiamo assistito ad un bel duello tra camilla basse e corsa jet sin dalle battute iniziali risolto da camilla basse che è partita più veloce del dell'avversario oggi senza ferri anteriori è riuscita a partire con più sollecitudine forse corsa jet poteva riposarsi un pochino durante il percorso ma comunque è stata una lotta vincente vinta da camilla basse la porta colori della scuderia usque luigi loreto al training e raffo forino in salchi al secondo come avete visto corsa jet e dal terzo numero 11 cecile Grazie a tutti.